Buona Fernandes, vinto la sesta tappa a Vuelta al Salvador, felicissima! Sono troppo contenta perché già nel 2006 avevo vinto qui un'etapa, per me è molto difficile per noi del Brasile perché all'inverno perdiamo il primo e questa etapa dedico a lui che con certezza stava conmigo e mi dò molta forza per arrivare. Oggi è molto caldo durante l'etapa, hai sofferto? Abbastanza, era una trampa molto lunga, tanti scatti, noi del Brasile eravamo sempre lì nella fuga e grazie a me tocco la fuga giusta e sono arrivata, sono troppo contenta. Hai aspettato gli ultimi 200 metri? Sì perché io in volata sono ferma, allora gli altri due che erano con me sapevo già che erano più veloci, allora ho aspettato loro, loro non partivano, sono partiti a 500 metri perché ero più, gli sprint per me era difficile allora sono arrivata da sola, meno male! Grazie!